Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andiamo a parlare, andiamo a riassumere soprattutto questo inizio di questa prima giornata di Serie A ma prima invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare le campagne nelle stagioni dei contenuti parliamo prima di Inter e Napoli Inter veramente che ha convinto, veramente che con i nuovi acquisti ha fatto veramente una partita buona dove trova due golle con una grande doppietta da Toro Martinez un Inter che veramente ha, rispetto all'anno scorso, parte subito bene tre punti molto importanti, Simone Izzacchi mette una formazione veramente importante in campo ho visto veramente un ottimo Turam, un ottimo la Toro Martinez che sicuramente a me quest'anno guiderà l'attacco dell'Inter e poi ho visto un ottimo Arnatovic Inter che secondo me, dando un'opinione riassuntiva, veramente ha messo una marcia veramente importante è partita subito a razzo, ha portato i tre punti a casa uguale ha fatto il Napoli il Napoli parte al Campione d'Italia Campione d'Italia che dimostra fuori casa del Frosinone di portare a casa dei punti importanti grande reazione contro i guardi del Napoli Frosinone che parte in vantaggio con un calcio di rigore trasformato dal giocatore preso dal Sassuolo un giocatore che veramente secondo me con la merda del Frosinone può fare tanto ora arriva che dira dal Napoli in prestito quindi un Frosinone che parte con un volto diverso rispetto al passato è un Frosinone che gioca bene il pallone è un Frosinone che ha tanti talenti di prospettiva e che può fare veramente bene ma perde 3-1 con questo Napoli con una doppietta grandissima di Osimene è un gol fantastico di Politano dove il Napoli conferma ancora di essere la favorita di questo campionato mettere così in chiaro, portare i punti a casa e insieme all'Inter partono veramente con il botto ora parliamo della Fiorentina Fiorentina che mi ha stupito Fiorentina che vince con tanti gol di vantaggio Fiorentina che già al primo tempo aveva sottomesso tutto il Genoa ne ho promossa tanti acquisiti fatti dal Genoa ma è prima partita veramente deludente Girardino prende questa brutta sconfitta italiano sistema veramente bene la formazione in campo una Fiorentina veramente che secondo me ha fatto un piccolo upgrade comprando alcuni giocatori molto importanti che potrebbero veramente dare tanta a questa Fiorentina secondo me è una stagione veramente importante per la Fiorentina italiana che oltre ad avere il campionato ha anche una competizione europea quindi Fiorentina, Inter e Napoli veramente da 9 in pagella come reazione, come giocatori che hanno messo in campo e come gol e realizzazione ora parliamo delle due romane Lazio e Roma Lazio e Roma veramente deludenti Roma mi aspettavo di più anche nonostante tutto il problema dell'attacco mi aspettavo di più oltre agli acquisti che hanno fatto Lazio che non pensavo che perdessero tutto contro il Lecce Lecce veramente una grandissima sorpresa Lecce che porta tre punti veramente importanti che sono importanti anche per la salvezza Lecce che insieme a Empoli, Frosinone, Verona, Genoa e tanti e altre sono le squadre che rischiano di più ma vedere in questa prima giornata un Lecce che porta tre punti a casa un Epoli che perde contro il Verona un Frosinone che perde un Genoa che perde secondo me rispetto alle altre Lecce ha qualcosa in più una formazione messa in campo veramente bene di Francesco e scusate ancora di Francesco sbagliato di Francesco fa parte del Frosinone ma da Daversa che continua a mettere un buon calcio in campo e quindi secondo me è un Lecce che potrebbe far tanto potrebbe far tanto e potrebbe portare a casa i punti importanti mentre quanto riguarda Roma gioca contro una squadra interna l'ognosa, Salernitana dove ha sempre il suo grandissimo giocatore che è Candreva che insieme a altri giocatori hanno composto veramente un buon organico porta a casa un punto importante Salernitana contro la Roma una Roma che ritrova un giocatore che l'anno scorso ha fatto veramente poco e che è Belotti e che secondo me Belotti quest'anno con lo spazio che ha nel reparto offensivo potrebbe fare una grandissima stagione e vedere quel Belotti che faceva quelle bellissime stagioni con la Maria del Torino oltre a questo quindi Belotti e Candreva ritrovati parliamo di Sassuolo Atalanta Sassuolo Atalanta dove vediamo un Sassuolo che ha tante difficoltà deve sistemare bene la squadra tutto il reparto difensivo un'Atalanta che riesce nonostante tutte difficoltà a portare a casa quei tre punti noti importanti che vediamo un giocatore che a Milano non ha fatto proprio nulla che è stato veramente un flop e che con la maia dell'Atalanta subito all'esordio nel secondo tempo trova il gol e sfiora anche la doppietta parliamo di Charles Descatelliers che fa bene con la maia dell'Atalanta e io gli auguro di far bene di trovare la sua tecnica e qualità che ha dimostrato con la maia del Crebruge e fa benissimo trova prende la traversa e poi con di testa trova il gol dell'1-0 poi trova il 2-0 l'Atalanta Atalanta porta tre punti molto molto importanti e Gasperini secondo me è la medicina adatta per Descatelliers Descatelliers potrebbe diventare un grandissimo giocatore con Gasperini che veramente sicuramente valorizzerà il giocatore e sicuramente porterà a casa un grandissimo giocatore che potrebbe dare una grandissima mano all'Atalanta quindi Roma e Lazio sono veramente deludenti Atalanta che con un po' di difficoltà e gli acquisti ha fatto veramente tutti al top gli acquisti hanno fatto veramente una grandissima prestazione Scamacca veramente buona prestazione di Scamacca Roma e Lazio veramente deludenti Atalanta con tante difficoltà ma riesce nonostante tutto l'organico che ha e l'allenatore che ha a disposizione riesce a portare tre punti a casa e ora parliamo di una squadra che l'anno scorso ha avuto tante difficoltà ha avuto tanti problemi non si è qualificata per alcuni problemi non si è qualificata le competizioni europee sta fuori la competizione europea per due anni ma è una squadra che io avevo detto la prediction ha solo una partita ha settimana e quindi oltre al campionato c'è la Coppa Italia nessuna competizione europea giocherà quindi sarà una squadra veramente competitiva in Serie A ed è la Juventus di Allegri non lo so ragazzi mi ha veramente scioccato questa Juventus Juventus gioca in un modo diverso sembrava che non ci fosse Allegri in panchina ma ci fosse un altro allenatore una Juventus ho visto un grandissimo cambiaso cambiaso che riscatta Juventus secondo me ci ha visto veramente oltre la Juventus cambiaso che veramente sta avvenendo veramente bene e che dimostra nella prima giornata del campionato tanta roba Vlaovic Rabiot Chiesa finalmente abbiamo visto Chiesa e Vlaovic al top finalmente abbiamo visto una Juventus diversa una Juventus che mi piace perché ci sono tanti giovani in campo che giocano che Allegri valorizza tanto i giovani e questa è quella che mi piace a me un'Udinese veramente deludente un'Udinese che secondo me con la perdita di Samadzic veramente avrà difficoltà al centrocampo ma che ha tanti giovani presi di prospettiva e quindi c'è ancora il rodare la squadra quindi non diamo commenti affrettati non diamo soluzioni affrettate ma facciamo i commenti a questo Juventus che veramente ha dato il suo e sta dimostrando di essere la squadra che può dare fia torcia in questo campionato piena di giovani giocatori top che si stanno valorizzando sempre di più e che secondo me Vlaovic sarà quel giocatore che vedevamo in passato con la maglia della Fiorentina finalmente secondo me insieme a Chiesa troveranno la consacrazione con la maglia della Juventus io mi auguro di vedere ancora questo gioco questo gioco che ha proposto contro l'Udinese però tra tutte la Juventus ha trovato la squadra rognosa che è l'Udinese che l'Udinese l'anno scorso in Serie A e non era una neopromossa quindi scusate quindi secondo me sarà la volta giusta la Juventus ma dovrà avere a che fare con Inter Napoli e Atalanta Fiorentina sono squadre veramente rognose le due romane l'ho visto male male quindi vediamo stasera ora il Torino con il Cagliari e poi il Bologna con il Milan vediamo il Milan se risponde alle big e vediamo che reazione ha dovevo tutti questi risultati fatevi sapere sui commenti cosa ne pensate ci vediamo al prossimo video bella ragazzi